Covid-19, 351 nuovi positivi in regione, 83 casi nella provincia pesarese. Via La Gruda Palazzo Perticari trasferiti i primi dipendenti della provincia. Al via le domande per richiedere i saturimetri destinati agli over 65. Domani la giornata contro la violenza sulle donne, protocollo siglato dal comune. Benvenuti al nostro telegiornale, siete su Rossini TV sul canale 633 e questa è l'edizione di oggi, martedì 24 novembre. Come sempre apriamo anche questa sera parlando degli aggiornamenti riguardanti il coronavirus nel nostro territorio. Infatti il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.254 tamponi, 1.220 nel percorso nuove diagnosi, 1.034 nel percorso guariti. I positivi sono 351 nel percorso nuove diagnosi. Il dato della provincia di Pesarurbino è in aumento con 83 nuovi casi che si aggiungono ai 92 di Macerata, 87 di Ancona, 13 di Fermo, 53 di Ascoli Piceno e 23 da fuori Regione. I soggetti sintomatici riscontrati sul totale dei nuovi positivi sono stati 46. In primo piano questa sera anche la cronaca perché c'è stato un prezioso intervento da parte della polizia che ha salvato la vita di un uomo di 53 anni, residente in città, il quale aveva deciso di farla finita tentando il suicidio. Il tutto è cominciato con la chiamata di un passante al 113 che segnalava una macchina ferma in zona muraglia, al cui tubo di scappamento era inserito a un prolungamento che finiva proprio all'interno dell'abitacolo. Un'immagine che ha subito allertato l'attenzione degli agenti, al suo arrivo però la volante non ha trovato il veicolo nella zona indicata. Il conducente, accortosi di essere stato notato da un passante, si era spostato di qualche centinaio di metri posizionandosi all'interno di un parcheggio. La polizia ha rinvenuto l'uomo disteso sui sedili del veicolo e privo di conoscenza dopo aver iniziato a respirare i fumi emessi dall'automobile. Sul posto anche l'intervento del 118 che ha immediatamente proceduto a rianimare l'uomo il quale è stato poi trasferito all'ospedale di Pesaro per tutte le cure del caso. Ed ora voltiamo decisamente pagina e ci spostiamo nel centro storico di Pesaro perché a breve verrà smantellato il cantiere esterno al Palazzo Perticari. E anche a breve dunque l'importante residenza storica mostrerà la sua facciata completamente rinnovata in attesa di una prossima inaugurazione ufficiale che probabilmente sarà il prossimo anno. Questo primo servizio è di Daniele Romagna. È uno dei cantieri più importanti del centro storico, visibile da tempo agli occhi dei cittadini che si trovano a passeggiare lungo corso 11 settembre. Nelle prossime ore però qualcosa cambierà. Palazzo Perticari saluterà definitivamente la gru, simbolo degli importanti interventi di restauro applicati allo storico edificio. Lavori commissionati dal patron di Xanitalia Franco Signoretti, proprietario dello stabile acquistato ormai diversi anni fa. Insieme alla gru tra qualche giorno scomparirà anche la base in cemento ai piedi dell'edificio, che potrà quindi tornare a mostrare integralmente la sua facciata, ora completamente rinnovata. Prospettiva e bellezza recita su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, per annunciare la possibilità di vedere i primi risultati della riqualificazione adottata per l'importante edificio storico. Lo smantellamento del cantiere esterno però non segna il termine dei lavori. Come precisa infatti Signoretti, gli interventi proseguiranno e per parlare di inaugurazione è ancora troppo presto. Siamo arrivati finalmente a smontare la gru che ha dato tanto urto e disturbo a tutta la città e soprattutto ai negozianti del corso con il quale mi scuso per l'ennesima volta. I lavori sono stati lunghi, si sono profratti più del previsto e in ogni caso adesso è finita perché in settimana verrà tirata giù la gru e smantellata il basamento. I lavori all'interno sono rimasti quelli di carattere architettonico, stiamo finendo i recuperi degli affreschi che sono già a buon livello, stiamo mettendo i pavimenti, stiamo mettendo le porte, facendo tutti quegli interventi di finitura che comunque ancora prenderanno qualche mese. Tutti gli affreschi che sembravano inizialmente essere solo in alcune stanze, nella realtà pulendo e ripulendo gli strati di vernice superficiali sotto abbiamo trovato tante altre affreschi in tante altre stanze e quindi pian piano abbiamo aperto tutto e abbiamo ricostruito e fatto un restauro importante su tutti questi nuovi ritrovamenti. È comunque un palazzo privato e quindi sarà saltuariamente aperto al pubblico per delle visite e andrà ad ospitare la collezione che io nel corso di 40 anni ho fatto, quindi ci sarà una pinacoteca personale e sarà anche un punto di riferimento per gli amanti dell'arte, se vuol dire un punto di incontro per dialogare e parlare di questi argomenti. È previsto anche un ristorante alla parte interrata, ci sono anche due negozi che danno sul corso e poi un appartamento privato all'ultimo piano. E continuiamo a parlare di altri edifici della città di Pesaro perché è iniziato ieri il trasferimento dei primi dipendenti degli uffici della provincia di Pesaro Urbino, una decisione presa in seguito alla notizia dell'inagibilità della struttura come ci spiegano il presidente della provincia Giuseppe Paolini e il direttore generale Marco Domenicucci. È cominciato tutto con delle verifiche effettuate per iniziare dei lavori destinati all'efficientamento energetico della struttura. Per l'edificio che ospita locali uffici della provincia di Pesaro Urbino però i risultati hanno portato alla luce una situazione non prevista. Sono stati riscontrati infatti i problemi di sismicità legati al palazzo. Da qui la decisione obbligata di dover dichiarare inagibile la struttura con il conseguente trasferimento dei dipendenti in altri stabili della città. Il perito che ha fatto questa analisi, questi carottaggi, ha evidenziato dei problemi. Dei problemi che noi adesso chiediamo di verificare con un ulteriore carottaggio in tutta la struttura e in più punti del palazzo per vedere se sono veri oppure se sono state tratte delle considerazioni su una cosa fatta con non dico un po' di leggerezza ma non completa. Ecco non voglio dire che non sia stato fatto bene però vorremmo fare come quanto vai da un medico che ti fa una diagnosi avere una seconda diagnosi. In base a questa analisi abbiamo cominciato a trasferire gli uffici nella vecchia palazzina della provincia che secondo questa anche analisi non avrebbe problemi. Una volta che abbiamo ulteriori analisi fatte decideremo sul da farsi. Attualmente stiamo spostando i dipendenti come dicevo nella vecchia palazzina e credo che nel giro di un paio di settimane, anzi anche una settimana, sia tutto nel vecchio palazzo ci sia tutta la provincia lì e che continuerà a lavorare e funzionare tranquillamente in attesa di risposte su questa struttura. Sicuramente il trasferimento viene agevolato dal fatto che 39 dipendenti lavorano in lavoro agile, smart working. Per cui non dobbiamo spostare 80 unità ma ne dobbiamo spostare solo 50. Quindi questo ci facilita in questa prima fase. Poi dovremmo, se dovessero essere confermati i dati sui difetti, i problemi di questo edificio dovremmo poi pensare anche ad altre soluzioni alle quali in parte già stiamo lavorando perché stiamo contattando la regione Marche per vedere se è possibile ottenere intanto magari in locazione poi magari anche in proprietà quello che era chiamato il palazzo del turismo di fronte alla casa di Rossini, in via Rossini appunto, per collocare lì almeno 35 dipendenti più o meno. Abbiamo fatto il calcolo ci potrebbero stare 35 dipendenti perché dobbiamo pensare poi anche al momento in cui i dipendenti che oggi sono in lavoro agile poi torneranno in ufficio. Qualcuno ha scritto secondo me in maniera impropria che questo edificio è un edificio di cartapesta che va raso al suolo. Io personalmente sono convinto che la situazione non è quella che è stata descritta. Non a caso ho contattato come ricordava prima il Presidente immediatamente l'Università di Ancone, Politecnico, il professore De Sì, il quale adesso farà un ulteriore controllo ma c'è stato un contatto informale e per ora questo contatto informale mi ha tranquillizzato nel senso che sta già immergendo che l'analisi va approfondita perché molto probabilmente la situazione dell'edificio non è quella che è stata descritta dal primo studio. Quindi io sono abbastanza tranquillo. Poi vediamo un attimino come andranno le prossime indagini. Ed ora una comunicazione che arriva da Confindustria perché qualche giorno fa presso la sede dell'area Vasta 1 il Presidente di Confindustria Marche Nord Mauro Papalini insieme al coordinatore della sezione di Pesaro Urbino, il dottor Andrea Baroni, hanno donato all'area Vasta un sistema radiologico portatile domiciliare completo di detettore digitale, software e relativi accessori fornito dalla ditta Tecno Medical di Senigallia. L'attrezzatura permetterà l'attivazione di un nuovo servizio domiciliare a favore di persone fragili covid positive. Ve lo abbiamo ricordato la scorsa settimana ma oggi in questo prossimo servizio lo rifacciamo per spiegare bene le modalità per ottenere questi famosi saturimetri. Sono 3.000 quelli che verranno dati dal Comune di Pesaro e verranno dati alle persone over 65. È attivo anche un numero verde e c'è anche la possibilità di fare la richiesta attraverso il sito del Comune. Vediamo il servizio. Sarà possibile da domani, mercoledì 25 novembre fino al prossimo 2 dicembre, presentare le domande utili per richiedere i saturimetri che l'amministrazione comunale distribuirà ai pesaresi a partire dal mese di dicembre. Una misura ricavata dai fondi avanzati dal milione di euro impiegato per i bonus pesa, bambini e attività. I 3.000 saturimetri saranno destinati agli over 65. Alle famiglie al cui interno vi è almeno un componente nato prima del 1 gennaio 1956 oppure a casi di disabilità grave. Se le domande dovessero risultare in esubero, sarà data priorità agli over 65 che vivono soli, a chi paga l'affitto oppure a chi presenta un reddito più basso al netto del mese di ottobre 2020 rapportato al nucleo familiare. Le domande potranno essere compilate sul sito del Comune di Pesaro oppure chiamando il numero 0721 17 43 66 2. La linea telefonica sarà attivata a partire da mercoledì 25 novembre da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 16 e 30. I saturimetri saranno distribuiti dal 5 dicembre dai volontari di quartiere che verranno formati da Aspes grazie ai professionisti delle farmacie comunali. Il saturimetro è uno strumento piccolo che viene utilizzato proprio per vedere e verificare la saturazione dell'ossigeno all'interno del nostro organismo. È composto di uno schermo, di un piccolo schermo dove vengono riportate sia l'ossigenazione del corpo e sia i battiti cardiaci. Quindi sono praticamente le due cose che vanno sempre di pari passo. Dopodiché si inserisce all'interno del piccolo strumento un dito e si aspetta praticamente qualche secondo e dopo qualche secondo abbiamo la risposta alla nostra richiesta praticamente. E questo sul visore si vede praticamente benissimo come si deve comportare. Diciamo che l'ossigenazione per essere perfetta deve essere dai 93 ai 99. Noi siamo parte integrante di questo progetto che ha voluto fortemente il sindaco Ricci dare la possibilità a 3.000 famiglie pesaresi di poter utilizzare questo strumento che in questo momento di epidemia legata al Covid è fondamentale proprio all'interno delle famiglie. I virologi dicono dove c'è un termometro ci dovrebbe essere un saturimetro e la volontà del Comune di Pesaro è proprio quella di poter dare la possibilità anche a quelli che hanno problemi economici, meno possibilità di approcciarsi a uno strumento di questo genere e di poterlo fornire. Dalla prima settimana di dicembre noi come Aspens forniremo al Comune questi 3.000 saturimetri che misurano l'ossigenazione del sangue e anche il battito cardiaco quindi daranno la possibilità di conoscere il livello di ossigenazione che è quello che bisogna tenere sotto controllo per capire se ci sono o meno problemi proprio legati all'infezione da Covid. Come Aspes organizzeremo anche per tutti i volontari che distribuiranno questi saturimetri nei quartieri della città un corso di formazione proprio per spiegare come funziona il saturimetro, quale sono l'approccio ai valori e alle misurazioni che il saturimetro farà e lo faremo proprio coinvolgendo tutti i quartieri i volontari che già sono stati utilizzati per conto del Comune proprio per la distribuzione in questi giorni e nei mesi precedenti dei buoni prima spese e poi dei buoni bambino. In occasione del 25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la provincia di Pesaro Urbino aderisce alla campagna di sensibilizzazione sociale posto occupato. La campagna prevede che in luoghi pubblici, sedi istituzionali, scuole, mezzi di trasporto venga riservata una sedia con affissa la locandina posto occupato in memoria delle vittime di femminicidio. E saranno davvero tante le iniziative messe in campo dal Comune di Pesaro per celebrare domani la giornata internazionale appunto per l'eliminazione della violenza contro le donne e che vi racconteremo poi anche nel telegiornale di domani sera. Nel frattempo però vediamo l'intervista che abbiamo fatto all'assessore ai servizi sociali del Comune Sara Mengucci che ci ha raccontato della firma avvenuta proprio oggi di un protocollo molto importante per contrastare questo fenomeno. Un protocollo di azioni di contrasto alla violenza sulle donne, un protocollo che ha messo in rete veramente tanti soggetti dall'autorità giudiziaria, da Forza dell'Ordine, all'Azur, Marche Nord, l'ambito territoriale, i comuni, il centro antiviolenza, la casa d'emergenza. Un lavoro straordinario, gli operatori sociali e gli operatori sanitari. Un lavoro straordinario che va a definire in maniera assolutamente condivisa la rete dei servizi, la rete degli interventi e tutti gli aspetti che sono legati alla violenza di genere, quindi l'aspetto sanitario, l'aspetto legale piuttosto che la tutela della donna e dei propri figli. Spesso si tratta anche di violenza sulle donne e violenza assistita. Quindi è un protocollo che è frutto di un lavoro molto importante, di un lavoro di diversi mesi, che ha visto il coordinamento dell'ambito territoriale, ringrazio il dottor Drago, ma ringrazio veramente tutti coloro che hanno aderito, penso dalla Prefettura, alla Questura, all'Azur, veramente un lavoro straordinario. Un lavoro dove si crea un modus operandi delle procedure comune e si crea soprattutto un linguaggio comune per tutelare le donne vittime di violenza e per andare a prevenire anche quelle situazioni dove presumibilmente si compie violenza, prevenire tutte quelle situazioni in cui il rischio è veramente alto. Non solo protocollo, mercoledì anche consiglio comunale dedicato a questa tematica. Sì, mercoledì, grazie alla collaborazione del Presidente del Consiglio Perugini, dell'Assessore Ceccarelli, ma anche degli consiglieri comunali, ci sarà il Consiglio monotematico sulla violenza di genere. È ormai un'abitudine che abbiamo già da diverso tempo. Abbiamo istituito questo Consiglio monotematico che è l'occasione per affrontare argomenti, temi dedicati alla violenza sulle donne. Quest'anno dedicheremo spazio al progetto L'Armadio, che è un progetto che riguarda gli uomini maltrattanti e la violenza assistita, curato dal labirinto dove noi siamo partner come comune a metodo territoriale. Ci sarà l'intervento della dottoressa Baiocchi, che farà un panorama sul tema delle forze dell'ordine, su come svolgono il loro operato. Un straordinario lavoro veramente a tutela delle donne. Il dottor Del Gaiso, membro dell'ordine dei medici, che farà un panorama invece su quello che è il ruolo dei medici di famiglia, dei pediatri, eccetera. E ovviamente anche sarà presentato un piccolo lavoro dell'Istituto Mengaruni e ovviamente lasceremo spazio anche ai consiglieri comunali. Devo dire che c'è grande sensibilità su questo tema, una grande sensibilità di tutto il Consiglio comunale, ed ora ci spostiamo a Fano, nuovo verde, per far respirare la città e sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto per la natura e per l'ambiente. Dal 2005 anche a Fano si celebra la festa degli alberi e lo si fa piantando un albero per ogni nato nell'ultimo anno, ben 400 per quanto riguarda il 2020. Per cause di forza maggiore, quest'anno alla giornata dedicata all'iniziativa, non hanno potuto partecipare, come di consueto, i bambini delle scuole elementari, ma soltanto dei referenti del progetto, insieme al sindaco Seri e all'assessore all'ambiente Barbara Brunori. Una volta piantumati, le aree boschive comunali verranno gestite non solo come aree verdi, ma come serbatoi di biodiversità con interventi ridotti e calendarizzati. Anche in un momento come quello che stiamo attraversando ormai da diversi mesi, il tema delle infrastrutture è di vitale importanza per lo sviluppo economico del territorio. Per questo Confcommercio, Pesaro Urbino, Marche Nord, dopo gli incontri con il Presidente Acquaroli e il Vice Presidente Carloni della Regione Marche, e giovedì 26 novembre alle ore 15.30 incontrerà in videoconferenza l'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici della Regione Marche, Francesco Baldelli. Mentre le biblioteche comunali, chiuse al pubblico come da ultimo di PCM, sono attive con una serie di servizi, fra cui le attività di prestito, Pesaro Città che Legge inaugura oggi una serie di incontri che andranno avanti per i mesi di dicembre e gennaio con cadenza settimanale, con protagonisti alcuni autori di volumi che saranno in diretta sulla pagina Facebook dell'Associazione. Il programma degli appuntamenti è ancora in fase di definizione e potrebbe subire cambiamenti. Tutti gli aggiornamenti però saranno segnalati sulla pagina Facebook Pesaro Città che Legge. Tornano il premio letterario internazionale La Donna si racconta ed il premio Juniore Stadi, giunto alla ventunesima edizione, promossi dall'Associazione Culturale La Donna si racconta, in collaborazione anche con la nostra emittente televisiva. Il premio letterario internazionale La Donna si racconta è riservato a donne italiane e straniere che possono partecipare con una o più opere edite o inedite a tema libero nelle sezioni poesia e narrativa. Per entrambi i concorsi gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 aprile 2021, preferibilmente via mail a la donna si racconta 20 chiocciolagmail.com I bandi sono presenti anche sulla pagina Facebook La Donna si racconta, mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero che state vedendo in sovrimpressione. Le sculture pesaresi dell'arte contemporanea riunite in un grande parco urbano. E' questo l'ambizioso progetto del Comune di Pesaro che sta promuovendo assieme al Centro Arti Visive Pescheria ma anche architetti e paesaggisti della città. Ne abbiamo parlato quindi con l'assessore alla bellezza del Comune di Pesaro Daniele Vimini. E' un progetto a cui teniamo molto, intanto perché Pesaro ha una storia particolare, quasi unica, di ricchezza, di contributi di artisti contemporanei in giro per la città. Sculture che hanno una storia lunga, anche una lunga storia legata a quello che è stato ad esempio l'anno prossimo saranno i 50 anni di sculture in piazza che è la mostra epocale con le sculture di Pomodoro in Piazza del Popolo che poi diede via una stagione non solo al fatto che ora una scultura come la Sfera Grande in Piazza della Libertà è rimasta come testimonianza di quell'epoca ma poi ha spinto tantissimi altri artisti a contribuire con le proprie opere o l'amministrazione a collocare opere di grandi artisti tant'è che oggi sono censite almeno 20 grandi interventi da Staccioli, quel grande abbraccio che vediamo all'arrivo all'autostrada che in realtà era una sorta di ponte quando venne collocato la prima volta al centro d'artivisie e pescheria non è un caso quindi che questo progetto veda tra i protagonisti non solo il comune di Pesaro ma la pescheria come luogo dell'arte contemporanea e anche dell'archivio Loreno Sguanci perché Loreno Sguanci è stato il primo oltre che ideatore e direttore del centro d'artivisie e pescheria ed è anche uno dei protagonisti pensiamo alla porta al mare Riviale Marconi o anche l'intervento con cui ha riqualificato Piazzale 1 maggio tanti anni fa uno dei tanti protagonisti appunto di questo parco delle sculture che passa per la scultura di Consagra in Piazzale Matteotti o pensiamo al porto il grandissimo lavoro di Liseo Mattiacci questo ordine cosmico che insomma è nel cuore di tutti quelli che vanno a fare la passeggiata ecco l'arte contemporanea naturalmente esige sempre un po' di mediazione anche per essere compresa per essere raccontata e quindi essere inserite queste sculture all'interno di un parco urbano visitabile e raccontabile con percorsi, app anche tutte le possibilità che le tecnologie forniscono ma anche della possibilità di avere dei podcast ascoltabili o più semplicemente anche fare visite guidate percorsi guidati con le guide turistiche o chi organizza Wallscape per valorizzare le bellezze dell'aria aperta pensiamo che sia un bellissimo elemento di racconto in sé per l'unicità che rappresenta Pesaro ma anche perché appunto può essere dalle scolari esche e tanti altri fino all'ambito turistico un elemento di forte interesse e anche una linea per proseguire in questa direzione quindi con la qualità molto alta che pesano da questo punto di vista ripeto che ne fa quasi un unicum mondiale continuare e chiaramente con l'attenzione anche qui la presenza degli architetti dei passeggisti sarà preziosa oltre che della sovretendenza in interventi urbani che portano della bellezza anche fuori dai musei e quindi la rendano più fruibile più accessibile a tutti e anche diciamo magari poi invogliare per temi in particolar modo ad avvicinarsi al contemporaneo e quindi poi a visita dei musei in particolar modo alla pescheria In chiusura del nostro telegiornale vogliamo raccontarvi l'iniziativa di un ristorante in questi tempi di emergenza e di chiusura un'iniziativa molto originale che vediamo in questo prossimo servizio Noi di Polpo di Fulmine volevamo in questo preciso momento storico dare anche un messaggio di positività e quindi facendo parte di uno dei settori più colpiti in questo momento quindi quello della ristorazione abbiamo pensato di inventarci un qualcosa che potesse farci andare avanti e questa cosa ce lo permette anche il tipo di prodotto che noi utilizziamo quindi la vasocottura infatti noi abbiamo la possibilità di spedire in tutta Italia per l'occasione abbiamo creato una cena live una cena su Zoom è la prima di tante iniziative che vogliamo vogliamo proporvi si tratta di ordinare i vasetti potete ordinare si possono ordinare da tutta Italia una volta che avrete i vasetti a casa vostra noi vi invieremo un link in cui voi potrete accedere e accedere appunto a questa cena live in questo modo ognuno sarà a casa propria in totale sicurezza ognuno avrà il proprio vasetto che volendo venire a mangiare al ristorante adesso non si può quindi lo terrà a casa sua e ognuno nel proprio tavolo nella propria cucina potrà mangiare insieme insieme a chi? insieme a noi quindi farci domande e tutto quello che riguarda la vasocottura è la nostra realtà fare conoscere altre persone perché all'interno di queste di queste cene live ci sarà pieno di persone in tutta Italia provenienti da tutta Italia quindi anche una maniera in più per conoscersi per fare una nuova esperienza in questo momento in cui di esperienze diciamo possiamo farne veramente poche e per questa per questa primissima cena zoom ci siamo legati ad EMP EMP Trainer è una società una piattaforma online di allenamenti online che oltre a proporvi degli abbonamenti quindi per il vostro fisico raggiungere degli obiettivi a livello fisico vi propone anche un piano alimentare per questa prima cena live abbiamo già chiuso le iscrizioni quindi non è più possibile partecipare alla cena che verrà mercoledì 25 ma se continuerete a seguirci sui nostri social o ovunque basta anche soltanto una telefonata potrete rimanere in contatto rimanere aggiornate su tutti i progetti che ancora abbiamo da farvi scoprire quindi probabilmente rifaremo altre cene live che comprenderanno tutta Italia e faremo anche tanti altri nuovi progetti molto interessanti e allora complimenti davvero a questa attività perché ha saputo riorganizzare il proprio lavoro in bocca al lupo mentre questa sera su Rossini TV un appuntamento un dibattito che può essere anche un momento di riflessione l'associazione culturale Unione Protezione Umana per Ambiente ha registrato questo dibattito e noi questa sera lo mandiamo in onda serve un nuovo ospedale a Muraglia questa sera parteciperà Luca Ceriscioli Roberto Rossini Stefano Ridolfi e chiaramente vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna nella replica delle 20.30 e delle 22 di questo telegiornale questa sera mentre domani alle 7.20 ci sarà in diretta la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini Buona serata